A Porto Empendocle dimorano 16.809 persone. Ebbene, a Porto Empendocle 16.808 persone si vergognano di essere concittadine di un vigliacco che, approfittando di un essere vivente indifeso, un cane randaggio adottato benevolmente dal quartiere in via Giolitti, gli ha sparato con un fucile da caccia e lo ha ucciso. Il vigliacco, del quale si vergognano 16.808 empedoclini, oltre che le altre migliaia di persone dell'opinione pubblica siciliana, non solo, sarebbe facilmente identificabile. Basterebbe seguire il tracciato dei pallini del fucile da caccia. Polizie e carabinieri lavorino per scoprire il vigliacco, del quale si vergognano 16.808 persone per bene di Porto Empendocle. Il sindaco Calogero Firetto intervenga con una dichiarazione di biasimo e di deplorazione verso quanto accaduto.